Ciao Fatalla, un biglietto per uno. Che spettacolo? Il mio. Ah, e come si chiama? Testimo Fatalla. E' ancora non uscito. No, disassi, ma quando esce, è la decima volta che vengi. Il 9 marzo. Ah, ok, allora aspetta. Sì, un po' più in là magari. Puesa. Ciao Fatalla. Ciao Fatalla. Ciao Fatalla.